Cavalli che vanno in partenza Sposta adesso il numero 7 Rigoletto Jet senza troppa convinzione Vuole andare sul battistrada Ballardini senza spesa 645,4 quando i cavalli sono al passaggio davanti alle tribune Ray Charles e CSM che cerca l'allungo I cavalli sono al passaggio al chilometro in minuto due decimi Adesso 14,8 però per questo paletto Si va con Ray Charles e CSM Rigoletto Jet alle prese Lungo la corda c'è Rambo di No Poi Rolli 1000, l'esterno Red Alter Di dentro ancora il numero 2 di Rani Fonte Il chilometro in 1,15,3 per Ray Charles e CSM Che adesso ha cercato di rispondere a Rigoletto Jet Che comunque è sempre lì Va a spingere su Ray Charles Un passaggio nel 15,1 Sulla addirittura opposta alle tribune C'è l'errore nel frattempo di Rani Fonte Con Rigoletto Jet che va ai fianchi di Ray Charles Che peggiora di camminata E così si fa sotto anche Red Alter Rambo di No che non ha spazio per venire a correre Quando i cavalli escono dalla curva Con Rigoletto Jet in pressione su Ray Charles Che è spento Di dentro ci va Rambo di No All'esterno Red Alter Con Rigoletto Jet che è passato Red Alter che ci prova Rambo di No che trova la corsia Ma c'è il doppio del ballardo Rigoletto Jet che va a vincere nei confronti del numero 1 Rambo di No e poi Red Alter 1,15,4 Ray Charles e CSM che paga nel finale Vince la grande Rigoletto Jet con Vittorio Ballardini 3,79 la sua quota Su Rambo di No che trova spazio tardi E poi su Red Alter che viene a centropista 7,1,4 Per la settima del San Paolo è tutto La vittoria e il doppio per Rigoletto Jet Il doppio per Vittorio Ballardini Grazie a tutti